La scienza? Un grande e meraviglioso gioco. Appassionante si vede rivela il professor Ruggero Di Benedetto, dell'indirizzo tecnologico dell'Istituto Cobianchi. È lui assieme ad altri colleghi ad aver portato in piazza Ranzoni gli studenti per uno degli appuntamenti verbanesi della Notte dei Ricercatori, l'evento nazionale che apre le porte a laboratori, università, scuole, centri di ricerca con lo scopo di sensibilizzare la popolazione alla cultura scientifica. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.